Mi ha costretto ad avere un rapporto sessuale. Sono queste le parole che una dodicenne sassarese ha rivolto al giudice Maria Gabriella Pinna. Il fatto riserva quest'estate, quando dopo una serata di svago la ragazzina ha conosciuto un ragazzo di 17 anni che l'ha portata in un parco e l'ha violentata. Ci siamo baciata, ha dichiarato la ragazza, e poi mi ha portato in un parco. La dodicenne ha subito raccontato il fatto ai genitori che si sono rivolti alle forze dell'ordine. Avevo bevuto, ma ciò che è successo nel parco non accadde per mia volontà. Dopo il racconto della dodicenne, anche il ragazzo è stato ascoltato dal giudice, ma lui dichiara di non aver esercitato alcuna violenza.